Buongiorno a tutti, oggi siamo in Toscana, siamo ospiti nella fabbrica dello stabilimento di produzione Cato Imer dove ci hanno dato la possibilità di guardare, di girare intorno a un mini escavatore Cato Imer HD60 V4 macchina quindi della classe 60 quintali con un peso operativo di 5.600 kg con caratteristiche notevoli da un punto di vista sia idraulico che di motore che di comodità e di ergonomia questa macchina rispetto alla serie VX3 che era la diretta precedente può vantare motore nuovo, pompe nuove, motori di traslazione e di rotazione di nuova concezione e di produzione giapponese